Una sconfitta come quella contro il Brescia, pesantissima nelle dimensioni, non può che lasciare il segno. Cinque gol sul groppone sono davvero troppi, pur ammettendo la serata storta del direttore di gara. Sul Pescara si è abbattuto un vero e proprio ciclone e quando questo avviene c'è la necessità di ricomporre i pezzi per ripartire. Lo stesso Beppi Pillon dopo la partita è stato molto chiaro. Meglio resettare tutto. Ai ragazzi si sono impegnati fino all'ultimo, le responsabilità sono mie. Quando succedono queste situazioni, quando succede che la squadra subisce così tanti gol, vuol dire che anche io ho sbagliato praticamente qualcosa, me ne assumo in pieno le responsabilità. Se potesse tornare indietro Pillon avrebbe giocato a specchio la gara col Brescia, ovvero col 4-3-1-2, come poi ha fatto nel secondo tempo quando il Pescara ha creato pallegole e realizzato l'unica rete della serata, anche se le rondinelle a quel punto avevano la pancia piena. E' il cosiddetto piano B, evocato in passato dal presidente Sebastiani, che Pillon ha comunque sempre avuto sin da inizio campionato, ma a partita in corso. Già a Cremona, prima di campionato, il Pescara, sotto di un gol, chiuse la gara con le due punte e Mancuso, al 94esimo, firmò l'1-1. Ma l'idea di partenza è stata sempre 4-3-3. Nel post-Brescia Pillon ha utilizzato più volte il termine «resettare», un'espressione che potrà dire un cambio di fronte. Un passaggio al nuovo modulo, 4-3-1-2. Il solo Mancuso, fermo da tre partite a quota 12 gol, non può bastare e, visto che gli esterni non garantiscono retti, queste potrebbero arrivare anche da Monachello, che, unica nota lieta di due sere fa, si è sbloccato dopo tre mesi e mezzo di astinenza. Senza sottovalutare che in questo momento lo stimolo della novità può rappresentare un tocca sana per il gruppo. C'è un paradosso, il cambio di modulo potrebbe avvenire dopo un mercato che ha diminuito il numero dei centrocampisti, da 7 a 6, ed ha aumentato quello degli esterni d'attacco, da 4 a 5, senza contare Mancuso. Giocatori che rischiano di venire così sacrificati sull'altare del nuovo modulo. Per il ruolo di trequartista il casting è aperto. Brugman, Marras, Del Sole sono stati già utilizzati nel ruolo. Secondo Pillon, anche Sottil può essere idoneo. Non è da scartare neanche il 3-5-2. Il Pescara in rosa ha giocatori ideali per la difesa 3, Campagnaro, Perrotta, Ciofani, e un tutta fascia come il neoacquisto Pinto, che lo scorso anno si è esaltato con Cosmi. Nel pomeriggio odierno la ripresa degli allenamenti, ma da domani sarà più chiaro se Pillon si aprirà definitivamente al nuovo modulo. Quel che è certo è che a Foggia, domenica, non ci saranno per scolifica Gravillon e Del Grosso, mezza difesa titolare. Campagnaro e Ciofani si candidano per un posto allo Zaccheria.